Musica Arriva finalmente la presentazione del cartellone della nuova stagione del Teatro Biondo Stabile di Palermo che vede un nuovo direttore artistico Roberto Alaimo, giornalista, scrittore che succede all'epoca e trentennale ex direttore artistico Pietro Carrillo Sul palco in conferenza stampa si alternano Roberto Alaimo e Emma Dante in stretto contatto con lui che sarà capo anche della scuola del Teatro Biondo, il presidente Puglisi, l'assessore della cultura Giambrone e il sindaco di Palermo, Luca Orlando E' un teatro molto arrugginito con grandi professionalità nel personale che si tratta di rimotivare e fidelizzare a un progetto di teatro che è completamente diverso rispetto al passato perché l'idea di un teatro stabile così come è stato concepito fino ad ora, non a Palermo ma in tutta Italia è un po' troppo polveroso e non parlo della polvere del palcoscenico che è sacrosanta ma quel genere di polvere che poi fa venire allergie, per questo poi a teatro va sempre meno gente bisogna intanto innestare quel circolo virtuoso che partendo dall'allegria di andare a teatro riporti in teatro quella borghesia che forse a Palermo sia un po' perduta che non trova più che sia il compito della borghesia, il dovere della borghesia andare al teatro stabile è passata l'idea di una specie di orgoglio dell'ignoranza no ma io non leggo libri, ormai questo che prima era un segreto tutti lo vanno sbandierando io ho un teatro per carità quasi ne fossero fieri sì, quasi ne fossero fieri, l'orgoglio e la vergogna, dell'ignoranza è quello che noi dobbiamo cercare di combattere dando l'idea della cultura, dell'arte non come qualcosa di polveroso, vecchio e noioso ma di vitale, stavo per dire giovanile ma non voglio usare il termine giovanile apposta perché non è che voglio puntare sui giovani come sarebbe facile dire e fare io vorrei puntare sulla vitalità di un certo teatro lei ha detto in conferenza stampa ci potrebbe essere un 14enne che è come detto lei morto nell'uovo ma un 90enne invece è tanto vitale quindi non è una questione di età come diceva prima non è per niente una questione di età esistono 90enni come Dorfless che sono 90enni, 102 anni credo che abbia che sono estremamente giovanili per formamenti in Italia io non ne faccio una questione generazionale non mi sembra che puntando sui giovani si che Simpliciter si esca perché non voglio crescere nuove generazioni di spettatori che poi ereditino i vizi dai vecchi voglio fare qualcosa di diverso, questo sì grazie a tutti 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 grazie a tutti